Le tue foto o se le mando ai tuoi figli e se non fai stesso con me, ha arrestato un 46enne priolese. Avevano iniziato una relazione dopo un incontro occasionale tre anni fa circa e tutto è andato per il verso giusto, quando la donna decide a un tratto di interrompere il rapporto. L'uomo, un 46enne priolese, non si rassegna e inizia a mettere in atto tutta una serie di iniziative per riconciliarsi con la donna, ma è in vano. Hai capito? Ti rovino, era il tenore delle minacce acquisite da Polizia e Procura. Mando le tue foto intime ai tuoi genitori e anche ai tuoi figli e poi diventerai la barzelletta di noto. Legalmente ti farò malissimo, corri, corri in quest'ora. Queste le minacce di un 46enne di origine priolese nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. L'uomo è stato indagato alla Procura di Siracusa con l'accusa di atti persecutori e tentata violenza sessuale ai danni della sua ex compagna di 50 anni residente a Noto. L'indagato, già noto agli ambienti giudiziari e destinatari dell'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento emesso dal GIP, deve mantenersi anche a una distanza di almeno 100 metri dalla stessa della propria abitazione, col divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo telefonico e telematico. Dopo la fine, nell'estate scorso, della relazione sentimentale durata tre anni, per volere della donna avrebbe reso impossibile la vita della ex fidanzata continuamente minacciata, specie con messaggi su WhatsApp. L'avrebbe anche promesso di divulgare alcune delle sue foto intime se non avesse avuto rapporti sessuali con lui. L'avrebbe perseguitata in tutti i luoghi da lei frequentati. Infine, la vicenda volge al culmine sul finire del mese di settembre. L'avrebbe pedinata, appostandosi nei pressi di una pizzeria dove la donna si trovava in compagnia di alcuni amici e dopo averla attesa per tutta la serata, le inviava un SMS dal seguente tenore. Ti aspetto fuori. E dopo che la donna entrava in auto, l'avvicinava intimerendola, Ti spaventi di me?